Società agricola Torre San, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salmi germini. Bentrovati al Meteo di Antena 3, anticiclone protagonista ma con tempo non sempre soleggiato. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 23 dicembre. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, tuttavia sulla pianura sarà alquanto nuvoloso con varie nebbie di notte, solo in parziale dissolvimento di mattina e in nuova formazione poi di sera. Sui monti saranno possibili locali rasserenamenti. Temperature stazionarie e comunque sempre sopra la media del periodo, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece comprese tra i 6 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da nuvoloso a coperto, con una maggiore nuvolosità che sarà possibile e con deboli piovaschi sparsi sulle zone orientali, specie sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine vediamo la situazione del Trentino Alto Adige. Avremo annuvolamenti più consistenti a nord, con deboli precipitazioni lungo la cresta di confine, asciutto altrove. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime tra 6 e 7 gradi all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società agricola Torresan, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del montello, solo carne e salumi geruini.